Siamo ancora in piena emergenza per Onospora e già cominciamo con l'emergenza del marciume apicale botta nera, culo nero, culo di scimmia come lo vogliamo chiamare. Nel frattempo vi faccio scorrere un po' di immagini perché per fortuna al momento io non ne sono colpito però bisogna andare in prevenzione. Gli altri anni aspettavo di avere qualche sintomo, cioè qualche pomodoro colpito da questa fisiopatia e poi correvo i ripari, quest'anno mi sembra corretto fare il contrario. Allora dopo la sigla vediamo un attimino il calcio e magnesio, questo della Cifo, lo ho acquistato l'anno scorso forse anche due anni fa, ne ho ancora circa metà quindi quest'anno penso che lo utilizzerò quasi tutto. Non è un video sponsorizzato da Cifo ovviamente e vanno bene un po' tutti quelli che trovate come integratori fogliari a base di calcio e magnesio. Vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Allora il pomodoro a un certo punto matura più velocemente degli altri, non ci accorgiamo che la parte sotto è in marcia e pensiamo di avere qualche frutto pronto per essere mangiato a tavola, invece no, lo raccogliamo, lo giriamo, vediamo che la parte sotto è nera, prima diventa molliccia, poi in uno stadio avanzato necrotizza, diventa duro e quindi il pomodoro lo buttiamo via. Cosa fare in questi casi e perché succede? Allora non è una malattia, è una fisiopatia del pomodoro, succede perché c'è poco calcio nel terreno oppure il calcio c'è ma la pianta non è in grado di prelevarlo dalle radici. Questo può venire perché le irrigazioni sono irregolari, magari irrighiamo un giorno sì e tre no, tutti i giorni e poi ne saltiamo qualcuno, bombe d'acqua che inondano il terreno, lo dilavano e quindi noi per qualche giorno non diamo più da bere alle piante e questo non gli fa assolutamente bene. Occorre una certa regolarità e ovviamente ci vuole un terreno sano, i gusci delle uova messe in inverno non servono assolutamente a niente, quindi bisogna agire con concimazioni specifiche a base di calcio se il terreno è carente da questo punto di vista. Se ci accorgiamo o se vogliamo andare in prevenzione come voglio fare io, abbiamo due possibilità, sempre con lo stesso prodotto possiamo darlo per via fogliare o per via radicale, io lo darò per via fogliare, cioè lo metto nella pompa e bagno le foglie, le foglie assorbono il calcio e danno uno sprint in più alla pianta, insomma cercano di minimizzare gli stress che possono derivare dalla mancanza di calcio. Allora nello specifico questo è il Calcisam Green della Cifo, non c'è scritto da nessuna parte che ha messo in agricoltura biologica e quindi l'ho acquistato come vi dicevo due anni fa e me lo ritrovo. Questo oltre al calcio e al magnesio ha anche il boro dentro e estratti di alga macrocistis, insomma è un prodotto abbastanza completo, lo si può dare sugli ortaggi che hanno questo tipo di problema come appunto i pomodori che soffrono, possono soffrire marciuma picale, dissecamento dell'arachide della vite, butteratura del melo, necrosi delle bratte della polinsettia, cioè lo si può dare anche sulla stella di Natale. Rende le bucce dei frutti più resistenti alle crepe e agli spacchi che avvengono dopo un sole intenso e piogge consistenti, i pomodori si spaccano, quindi questo dà qualcosa in più come resistenza. Dosi nel mio caso sono 4 millilitri per litro, allora ho 10 litri, non ne do moltissimo, quindi 40 millilitri. Lo do stasera per il semplice fatto che avrei dovuto fare il primo trattamento con la zeolite e con il tannino di castagno, li mischio insieme. Se mi state seguendo per un po' sapete che è una miscela che voglio provare il primo anno che la provo, fino adesso ho dato il tannino di castagno, bentonite e caolino, mi sono sempre trovato benissimo, non bene. Voglio provare, voglio sperimentare la zeolite, era questa la serata giusta per farlo, solo che mi è venuto in mente che non ho ancora fatto il trattamento con il calcio e il magnesio, quindi stasera faccio questo trattamento e domani sera do la zeolite e il tannino di castagno. Allora 40 millilitri, vediamo un po', pesiamo la tara, 8, ecco qua, semplicemente. Dopodiché, adesso che la metto a spalla poi ovviamente gli darò una buona sbattuta. Ok, aspetto ancora un 20 minuti che cade un attimino il sole e poi ci vediamo nell'orto e vi faccio vedere l'irrorazione che è veramente semplice. Prima di iniziare volevo fare con voi una rapida analisi. Allora, i pomodorini piccoli, ciliegini, datterini, non sono soggetti a questo tipo di problema, sono soggetti generalmente ai pomodori allungati. Il san marzano è proprio il prototipo del pomodoro che più si ammala di questo problema. Spesso succede anche su quelli tondi, vediamo un po', per adesso sembrano tutti belli. E come vi dicevo all'inizio del video, quando vedete un pomodoro che rispetto agli altri verdi diventa subito rosso, 9 volte su 10, anzi fate anche 10 su 10, quel pomodoro sotto è nero. Il consiglio che vi posso dare, supportato da persone che hanno studiato più di me, è quello di non togliere i pomodori colpiti dal marciume apicale. Lasciate di su finché non risolvete il problema, dando appunto il concime fogliare o per via radicale. Però per esperienza, gli altri anni io ho sempre risolto con quello fogliare, 2-3 trattamenti e di solito io ho risolto così. Tenete conto che quella mandata di pomodori, dove ce n'è uno colpito, ce ne saranno anche altri, non risolvete immediatamente con l'irrorazione di questo prodotto. Quello che potete risolvere è per i pomodori futuri, quelli che devono ancora maturare. Ultima analisi e poi cominciamo. Nonostante siano passati 7-8 giorni dal trattamento che ho fatto col testo di prodotti, nonostante ci siano state due pioggerelline pomeridiane, le foglie sono ancora macchiate giustamente dei prodotti che gli ho messo. Qualche pianta più sensibile delle altre ha le foglie accartocciate. C'è un buon articolo sul blog, visto che è molto apprezzato, su perché le foglie dei pomodori si arricciano. In questo caso, dal momento che non ho ragnetti, dal momento che non ho afidi, non ho nulla, non ho peronosporo, non ho alcun tipo di malattia, per fortuna, e la pianta è sufficientemente sana perché riceve la stessa quantità di acqua delle altre. L'unico motivo è che questa è più sensibile delle altre piante al calore. Col calore fa molto caldo. La foglia si chiude e protegge la pianta stessa dall'evaporazione dell'acqua, insomma, interna, dei liquidi che ha all'interno delle foglie. È una difesa che hanno, vedete? Questa, per esempio, è tutta aperta, non ci sono problemi. Poi mi sposto di due piante, questa, per esempio, sotto ce le ha chiuse e sopra no. Quindi va così, non sono omologate, sono piante e quindi ognuna ha la sua vita, la sua storia. Iniziamo il trattamento. Il trattamento va dato sempre in ore serali. Adesso sono le 19.30 circa, c'è il sole ma è pallido, quindi lo posso fare. L'ideale sarebbe non avere più raggi del sole. Questo perché i raggi del sole, con l'acqua che si deposita sulle foglie, fa da lente e brucia le foglie, brucerebbe tutto, ecco. Il liquido che do, il concime che sto dando per viafogliare, ovviamente, è trasparente, quindi non si vede nulla. Dall'alto verso il basso, cerco di bagnare un po' tutto. Ovviamente se va sui frutti, se va sui fiori, non succede nulla, però i fiori, vedete, a quest'ora cominciano piano piano a chiudersi. Qualcuno è aperto, qualcuno no. Cerco di non insistere sui fiori, ma male non gli fa. Anche se sui datterini, sui ciliegini, non ci sono problemi di marciuno apicale, lo do ugualmente perché rinforza la struttura stessa, la buccia del pomodoro, quindi tende a spaccarsi di meno, come vi dicevo prima. Qui abbiamo un inizio di peronospora, eccola qui. Quindi questa domani, prima di iniziare il trattamento, toglierò le foglie colpite e le allontanerò dall'orto. Farò un altro video, vedete? E guardate che mi ritengo fortunato, è perché mi scrivete in tanti che quest'anno è un disastro, quindi va bene così. Bene, vado avanti, perché tanto il lavoro è sempre lo stesso. Non vi posso ovviamente far vedere i risultati, perché siamo all'inizio di luglio, dovrei attendere un mese e voi nel frattempo non vedreste questo video e potrebbe venirvi utile. Quindi se volete fare prevenzione come faccio io, lo date subito. Se volete attendere i primi pomodori colpiti di marciuno apicale, potete farlo, io ho fatto sempre così gli anni scorsi, e poi corro ai ripari, però il tempo c'è, il tempo è anche clemente tra l'altro, e quindi secondo me vale la pena fare uno o due trattamenti una volta ogni 10-15 giorni. Bene, è tutto per questo video, grazie per essere stati con me, lasciate un like, iscrivetevi al canale, se mi volete iscrivere qui nei commenti come fate voi, c'è gente fortunata che mi scrive sui social, io non metto nulla, vengono pomodori bellissimi, io ho tutta la mia invidia buonaria, io se non metto niente, questi nel giro di due settimane li butto via. Vi auguro una buona serata!